laddove non arriva il comune ecco che subentra lo spirito d'iniziativa e di abnegazione dei cittadini nella frazione torrone di sulmona scatta l'arredamento fai da te nei giorni scorsi sono spuntate 5 panchine, 3 nella piazzetta vicino all'ufficio postale una proprio all'ingresso delle poste e l'altra nella sede del seggio elettorale un'operazione che ha visto impegnati i residenti della zona armati di passione e buona volontà in un'opera di volontariato apprezzata da tutti i quartieri dopo aver ottenuto tutti i permessi necessari da Palazzo San Francesco i residenti si sono messi a lavoro e hanno restituito il decoro al quartiere fondamentale è stato il contributo della ventresca Lignami di Fabio e Carmine la ditta che ha messo a disposizione il legno per rimettere in auge le panchine un'iniziativa simile sarà adottata anche per la frazione di Valle Corvo dove gli abitanti della zona hanno adornato il quartiere con i fiori è stata una riparazione quasi ex novo spiegano i residenti della zona abbiamo fatto volontariato ottenendo tutte le autorizzazioni l'unica cosa che chiediamo ai nostri amministratori è di non farci stancare di voler bene ai nostri quartieri e alle nostre città il plauso arriva dal consigliere comunale delegato alle frazioni Andrea Ramonno apprezziamo il gesto di volontariato consapevole dei residenti interviene il giovane dalla Romania annunciando ulteriori interventi di manutenzione dove il taglio dell'erba e la rivelazione del manto stradale in alcune zone delle frazioni a tutti Grazie a tutti.